Oggi facciamo la marmellata di fragole. Verso 100 grammi di zucchero sul fondo della penna e lo ricopro con le fragole a pezzettine. Ripetiamo i stessi passaggi per circa 4 piani. Un piano di zucchero e un piano di fragole. E infine aggiungiamo un succo di un limone. Lasciamo riposare la frutta per circa 4 ore finché non si creerà questo succhetto. Poi la lasciamo bollire circa 2 ore fino a che non sia sodata. La frulliamo per bene e passiamo un filo di grappa sui parattoli sterilizzati. E infine ci versiamo la marmellata bollente. E chiudiamo e mettiamo all'ingiù per fare il sottovoto.